Sì, più 8 sul Milan, più 8 sul Milan, più 8 sul Milan Ragazzi sono contento per i tre punti ovviamente Perché in ottica Scudetto sono importantissimi oggi Con il Milan che pareggia, la Juve che pareggia Insomma, tre punti d'oro Però io voglio da sportivo abbastanza imparziale Ovvio che tifo l'Inter, però cerco sempre di essere molto onesto Il più che posso, voglio fare dei gran complimenti al Bologna Permettetemelo perché ha fatto una gran prestazione Mi è piaciuto molto come ha giocato il Bologna Come ha provato a costruire gioco Come ha provato a trattare la palla, ad attaccare, a scalare Insomma, veramente complimenti al lavoro che ha fatto questa squadra nell'arco dei mesi E tornando all'Inter, come abbiamo giocato noi invece? Insomma, partita molto difficile Secondo me non eravamo al livello del Bologna dal punto di vista fisico Perché le nazionali sicuramente fanno pagare qualcosa L'abbiamo visto anche altre squadre importanti Quando hai tanti giocatori nazionali qualcosa paghi a ritorno Perché qualcuno ha giocato in più Non sono stati in squadra altri Altri giocatori che invece sono rimasti nelle squadre Magari quelle un po' più inferiori Appunto hanno avuto la possibilità di preparare bene la partita Oltre a questo si è visto che l'Inter aveva anche uno stop prolungato Che veniva ancora prima dello stop dei nazionali Per il discorso, come sapete, precauzionale Con il discorso a Sassuolo, eccetera E quindi probabilmente eravamo non al 100% della forma E questo un po' forse si è visto E forse è per quello che abbiamo anche un po' deciso di giocare bassi Di ripartire, perché questo ha fatto l'Inter Bisogna essere onesti L'Inter oggi ha cercato di coprirsi molto bene Con un 5-4-1 in fase di non possesso E poi di ripartire con la qualità Con i suoi interpreti Però il Bologna invece sin dall'inizio Ha pressato alto Ha cercato anche di portare Non solo di pressare alto Ma anche di costruire alto Quindi portavano in avanti i terzini Scalavano in avanti Sembrava veramente che fossero in dominio Del possesso della palla E che riuscissero anche proprio A costruire gioco E avere il pallino della partita in mano Poi ovviamente l'Inter è venuta fuori Perché il Bologna ha consumato tanto L'Inter ha avuto le sue chance Le sue occasioni Abbiamo preso anche un palo Abbiamo costruito anche noi Delle occasioni per andare a rete Bisogna essere onesti Non è che l'Inter abbia totalmente demeritato O questo gol si è venuto fuori dal nulla Non è così Abbiamo costruito quelle occasioni In maniera molto cinica E molto matura Ecco l'Inter di oggi È un Inter che sicuramente Ha molta più maturità Più attitudine alla vittoria Ed è anche più solida Più che in campo Mentalmente siamo solidi Mentalmente siamo solidi E credo Che l'Inter Abbia cambiato faccia Tre volte in questa stagione La prima parte della stagione Con il 3-4-1-2 Risultati un po' a singhiotto La seconda parte Il grosso della stagione Dove veramente abbiamo messo il turbo Abbiamo recuperato i punti persi E siamo andati sopra Anche battendo la Juve e il Milan Quando siamo tornati al 3-5-2 Con l'innesto anche di Eriksen E nelle ultimissime partite Invece l'Inter solida L'Inter vincente L'Inter che deve gestire E andare avanti Di passo in passo Perché non deve più rincorrere Ma deve difendere Deve difendersi da se stessa Ecco è un Inter Che in fase di non possesso Si chiude un po' di più Scala Lautaro Da centrocampista Diciamo Poi si ripropone come punta In fase di possesso L'Inter non cambia In fase di possesso È sempre un 3-5-2 Anche se oggi In realtà Eriksen Ha fatto il doppio play Eriksen-Brozovic Si sono alternati Più che alternati Proprio Eriksen Veniva giù E aiutava Brozovic In fase di regia Ma come Nulla di strano Non è che Perché poi i commentatori Ogni tanto Ah però in effetti A guardare bene l'Inter Sembrerebbe giocare In fase di possesso Con il mediano Con il doppio mediano In effetti Guardare bene Caspita Noi è da settimane 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 Che anche su PES Quando facciamo Le simulazioni tattiche Molto spesso Adottiamo questo sistema Contro squadre Che giocano Con il 4-2-3-1 Come il Bologna Cioè È questo che deve fare l'Inter Ma a guardare bene Eriksen Fa una cosa diversa da Varela Ma va Davvero Fantastico Cioè Varela va a fare il trequartista In fase Di possesso Cioè si butta Non fa il trequartista Ma si butta nella zona Delle tra le linee davanti Mentre Eriksen Viene tra le linee dietro È questo che succede E si vede proprio Che c'è un doppio mediano Eriksen poi accompagna La manovra E Varela invece In fase di transizione Si butta sull'esterno In sovrapposizione Ma va Ma dai Ecco Quindi no Per dire che Va bene Andiamo avanti Quindi molto bene questa cosa E Bastoni ovviamente Bastoni non fa quello che fa Skriniar E viceversa Bastoni Si slaccia Mentre Eriksen In fase anche di Diciamo di transizione positiva Eriksen Viene dentro al campo E tiene la posizione Sta sempre nel centro del campo Anche quando si va ad attaccare È raro che si butti dentro l'area Succede Ma secondo me dovrebbe succedere Ancora meno Di quel poco che succede Lo voglio un po' più dietro Lo voglio un pelo più dietro Per le ribattute I tiri da fuori Eriksen Però ci arriveremo Ci arriveremo Tranquilli che ci arriveremo Perché è sempre stato così Insomma ho visto cose Cercato di spiegare cose Che sono materializzate Settimane o qualche mese dopo Sempre Anche il discorso Eriksen, Mezzala, Barella Dicevamo Qualche mese prima che si avverasse E poi l'abbiamo visto Quindi tranquilli che ci arriveremo Anche quella cosa lì Con Eriksen che sta fuori dall'area E sta pronto al tiro dal limite Però a parte questo Bastoni invece si propone Con Eriksen che sta più dentro Bastoni si propone In sovrapposizione O comunque in supporto all'esterno Addirittura oggi era in sovrapposizione Essendo Young Non mancino Ma che rientra un po' E allora Bastoni aveva ancora più campo fuori Non a caso il gol viene proprio così Young viene dentro Bastoni galoppa all'esterno Palla dentro di Bastoni Sul secondo palo Tacchete che c'è Lukaku Pronto col suo mismatch fisico Sul secondo palo Cioè chi mi segue su PES Queste cose le sa a memoria Perché non è che giochiamo Facciamo calcio praticamente Quindi queste cose le conosciamo a memoria Queste transizioni le conosciamo a memoria Bastoni lo usiamo esattamente così Importando uno stile di gioco Tutto suo apposta Da centrocampista in fase di possesso Quando in realtà è un difensore Cioè facciamo delle cose proprio E vediamo questa roba qua Quindi sono veramente contento È un Inter che sento molto mia Anche se c'è Conte Sento molto mia Non la sento mia nel momento in cui Purtroppo Siamo molto poco propositivi E ci sta benissimo Voler vincere ovviamente Poi c'è il campionato da salvaguardare Quindi vuoi vincere Sai che sei un po' in inferiorità A livello fisico E quindi ti metti basso Fai Ti chiudi Riparti Certo Ovvio che non può essere questa la strada Per vincere Al di là del campionato No Ma in Europa eccetera Lì in Europa bisogna tornare più propositivi Bisogna comunque andare a Volere il pallino del gioco Non possiamo sempre Chiudaci e andare in ripartenza Chiaro che così esalti alcuni singoli Lukaku Per esempio Lukaku Uno Tanto per dire a caso Lui viene esaltato Come a Leverton Negli spazi È devastante Però ecco Non è una grandissima squadra Ecco però È da squadra matura Che in un campionato Che non è una coppa Il campionato Non è un turno No Un girone Ma è Una cosa A lungo termine Alcuni momenti Vanno interpretati Mi auguro che sia questo il motivo E non perché Abbiamo rinunciato a giocare Ma Che ci sia un momento Dove sai che fisicamente Fai più fatica Hai avuto stop E quindi Sei umile E dici Oggi È vero che c'è Ma contro Bologna Ma Bisogna portarla a casa È troppo importante Le altre hanno perso dei punti Gioco in maniera Strategica Non tattica Ma strategica Che è una cosa diversa E me la gioco In questo modo qua Perché di per sé Ripeto Il gioco l'ha fatto il Bologna Questo bisogna riconoscerlo Ah Una cosa individuale Che mi sento di dire È che Ecco una cosa importante Brozzo 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 ha fatto degli errori Stasera Gravi Io capisco Che bisogna togliere Eriksen Ogni tanto Perché vabbè Vuoi mettere Gagliardini Però Forse ogni tanto Bisognerebbe anche provare A trovare un'alternativa A Brozovic Ma non perché Brozovic Ma va bene Va benissimo Il ruolo suo Va bene Però quando è stanco Comincia a fare delle cose Un po' strane E perdere i palloni Sanguinosi E puoi pagarla Sulla lunga puoi pagarla Sono leggerezze Tra volte anche Proprio leggerezze mentali Che sono un po' gravi Vi rimando Alla punizione Tranquilla Centrocampo Che poteva giocare Corta Indietro al difensore A ripartire L'Inter Doveva tenere 1-0 Invece la manda A caso Ripartono loro Fa un fallo Da munizione Nella stessa azione Deve anche Fare il fallo tattico Bastoni e spenderlo E sono due ammoniti In una stessa azione Per una scemenza Di Brozovic Da fermo Che poteva darla dietro E tra l'altro Sono due diffidate Quindi la prossima partita Non gioca né Brozovic Né bastoni Insomma C'è capito Sono cose evitabili Queste robe qua Queste stonano Un pochino Queste stonano un po' Perché poi uno può dire Corre tanto Ma queste sono leggerezze Che non puoi permetterti Di fare Anche perché così Hai buttato fuori Anche un tuo compagno Non ci trova nulla E la prossima partita Siamo con due in meno Due anche importanti Per noi Quindi Vabbè Queste cose vanno migliorate Io ragazzi Vi rimando domani Con le pagelle Anche se è Pasqua Io lavoro Farò sacrifici Troverò il modo Di combinare tutto Ma le pagelle Insomma È un impegno Che mi sono preso Con voi Lo devo fare Quindi bene E quindi aspettatevele Domani mattina Ecco E io vi saluto Forza Inter Devo dire che abbiamo fatto Però una scroppata Niente da Niente da Niente da ridere Cioè Bella 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 tosta E abbiamo recuperato Tanti punti Siamo avanti Meritatamente E come avevo detto Il Milan Adesso che è impantanato Nella zona Champions Perde sicurezza E comincia anche a perdere punti E potrebbero anche Avere rischi In zona Champions Perché non è tutto Non è fatto Niente Ecco Questo è il punto Quindi vedete che alla fine Le cose Le avevamo un po' Intuite Con un po' Di lungimiranza Ragazzi Vi saluto Forza Inter A domani pagelle Mi raccomando Like al video Condividetelo E adesso Sotto Che si riparte Con l'ultimo Spezzone di campionato Dove non manchiamo Neanche un appuntamento